Mi chiamo Carlotta Cabiati e mi definiscono commercialista 2.0. Riesco a lavorare da ovunque, da un bar, da un treno, da un aeroporto. La cosa migliore è lavorare da casa, dove riesco a conciliare la mia vita lavorativa con quella di mamma. Ho un sacco di hobby, mi piace fare qualsiasi tipo di attività sportiva, sono maestra di sci da 20 anni, mi piace correre. Ho un'imbarcazione con un equipaggio tutto femminile con cui facciamo regate nel Golfo di Trieste da aprile fino alla Barcolana. In pratica nel mio lavoro aiuto piccoli business, freelance, artigiani a mettersi in proprio e ad affrontare i temi fiscali con meno paura e con più consapevolezza. Per il 90% risiedono al di fuori della mia città dove vivo, che è Trieste, e sono sparsi in giro per l'Italia, in Sicilia, in Sardegna, a Milano, a Torino. Per fortuna la tecnologia ci viene incontro e riesco ad utilizzare strumenti di videoconferenza con i clienti, strumenti di archiviazione dei documenti sul cloud e riesco a condividerli direttamente con il mio cliente che apprezza molto questa tipologia di lavoro perché ha la rapidità di dialogare con me, che sono il suo commercialista, senza doversi per forza spostare. Team System mi aiuta a lavorare meglio perché riesco a essere vicina anche ai miei clienti che vivono lontani da me. Con un'app i miei clienti riescono a gestire la propria fatturazione in maniera semplice e io con la soluzione di Team System riesco ad importare il ciclo attivo della loro fatturazione. Utilizzo fatture in cloud da 4 anni. Mi sono subito trovata benissimo, i miei clienti riescono a gestire con facilità la propria fatturazione e hanno il loro account collegato al mio. Quindi io posso verificare la correttezza di quello che loro fanno e il vantaggio è che io riesco a importare nella mia contabilità tutto il ciclo attivo dei miei clienti. Una digital runner mi definisco così pensando al fatto che utilizzo i social per promuovere la mia attività, perché scrivo di fisco sul blog e perché lavoro a distanza con i miei clienti. I nuovi clienti principalmente mi trovano attraverso i social. Ho una pagina Facebook professionale e un gruppo Facebook dedicato che si chiama In Studio da me dove faccio una volta al mese delle dirette live. In più da due anni mi sono appassionata Instagram dove ho un canale dedicato alla mia attività. Ho il mio blog che gestisco dal 2015 dove scrivo articoli a tema fisco in un linguaggio semplice e chiaro anche per i non addetti. Per il futuro mi piacerebbe sviluppare ancora di più la parte di consulenza online nei confronti dei miei clienti e di promuovere la mia attività di formazione live in giro per l'Italia.